Nome? Andrea. Cognome? Cavallini. Età? Venti. Città natale? Erba. Lavoro? Barteggio. Classico freestyle? Freestyle. Perché? Perché sono innamorato di questa disciplina. Nome del locale dove lavori? Lavoro in una torrefazione ambrosiana e locale Mistral. Cosa ti piace del tuo lavoro? Mi piace fare Flair. Hobby? Flair. Il nome del tuo cocktail? Reina. E perché dovresti vincere tu? Perché volevo dare ragione a tanti amici che mi sono stati vicini di aver fatto bene ad appoggiarmi, quindi ringrazio Andrea, Lazza, Domiziano, eccetera, tutti insomma. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Non ridete troppo. Fai un saluto? Ciao. Grazie. Grazie.